Ho citato colleghi deputati. Collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Tornate al vostro posto e depositate i cartelli. Tornate nelle vostre postazioni. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima. Innanzitutto noi iniziamo come ristoratori. Al di là di quello ci stanno dando l'obbligatorietà a vaccinarsi. Noi abbiamo bisogno di scegliere noi quello che vogliamo essere e quello che vogliamo fare e non succubi di questo stato. A misura necessaria ad oggi. Prendendo atto del fatto che con la vaccinazione vediamo che evita comunque sia la malattia grave, non il contagio. Che senso ha il Green Pass? Tornate al vostro posto e depositate i cartelli. Tornate nelle vostre postazioni. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima.